Signori miei, perdonatemi la canottiera ma non mi metto la maglietta per questo video oggi al mio risveglio è successa una cosa molto molto particolare di cui voglio rendervi partecipi è arrivato un nuovo ospite che non so dove sia eccola ragazzi lo so vi avevo detto che avevano preso un coniglio e che l'avremmo chiamato leone ma al mio risveglio ho saputo che mia mamma e mia sorella hanno voluto optare per una femminuccia sempre ariete eccola sempre ariete ovvero con le orecchie basse, abbassate di nome stella ciao stella voi sapete benissimo quanto io ci tenga ero tanto affezionato al nostro baffetto lo so è un video molto stupido questo direte ma che cazzo lo sta facendo a fare però non ho approfittato perché sono solo in casa eccola posso fare zoom si eccola ciao stella visto che anche tonks fa i suoi markat posso fare un po' di perfetto mamma che bella ciao stella insomma visto che poche tonks fa i suoi markat con la sua diana purtroppo non è mio è di mia sorella la nostra stella e lì si possono vedere tutto il disastro che ha fatto il nostro baffetto ha distrutto ha rovinato tutto quanto il cartongesso mamma praticamente mia mamma e mia sorella non ci sono per 5 minuti mi hanno chiesto di guardarla e ne ho approfittato voi siete liberi di dire che questo video è brutto, inutile, quello che volete ma io lo volevo fare ok? visto che devo guardare la nostra stella per 5 minuti mamma che bella già è stato un bel risveglio anche perché mi ero ubriacato la scorsa notte ve l'avevo detto nel terzo episodio di Spyro che dovevo uscire a mangiare fuori già e vabbè ragazzi riduciamo lo zoom giro il telefono e noi ci vediamo al prossimo episodio ragazzi video in generale scusatemi sono in canottiera magari questo pezzo lo taglio penso di sì ciao